Questo programma è offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Buonasera, ben trovati a Primo Sittà Pares, appuntamento settimanale del mercoledì, Gruppo TV7. Come dico il solito, vi ricordo, siamo in diretta sulla pagina Facebook. Questa sera noi abbiamo fatto al nostro televisionale un'ampia pagina per quanto riguarda il coronavirus che sicuramente sta attraversando un periodo, il Venedi sta attraversando un periodo sicuramente non dei migliori. Ne parleremo anche questa sera, ma soprattutto questa sera parleremo con il nostro ospite delle prossime regionali perché è il candidato che affronterà il governatore Zaia per diventare il primo cittadino del Veneto. E' Arturo Lorenzoni. Buonasera, Arturo Lorenzoni. Buonasera a lei e a chi ci sta guardando. Tutto bene? Tutto bene. Tutto bene. Allora, prima di iniziare a parlare ovviamente di questa candidatura che è arrivata inaspettata e ci racconterà un po' di cronistorie e come è mai arrivata questa candidatura. Come stiamo attraversando questo momento? E' un momento oggettivamente anche di disorientamento, nel senso che stiamo affrontando una situazione nuova che non avevamo mai. Esagerata Lorenzoni, secondo lei? Ma no, non direi esagerata perché non conosciamo quella che sia la possibile estensione del virus. E quindi la prima reazione sicuramente deve essere di assoluta cautela. Io mi auguro che con il passare dei giorni i sanitari riescano a comprendere a che punto siamo del contagio e si possa circoscrivere le limitazioni alle aree effettivamente oggetto di presenza del virus che non mi aspetto sia tutta la regione del Veneto che non sia tutta l'Italia ma possa essere appunto circoscritto in quelli che sono le aree di contagio e si possa riprendere una vita normale. Beh, la cosa positiva è che oggi è stata anche dimessa una paziente appunto colpita dal coronavirus che questa malattia, anche se non c'è il vaccino, l'hanno riconfermata in molti con altissime percentuali guaribile e già questa è una garanzia di togliere quelle paure che i cittadini hanno perché oggi credo che la prima propria visaglia che uno percepisce camminando in città, percorrendo i negozi addirittura gli alimentari sono stati presi a... sembrava che ci fosse la prima guerra mondiale di nuovo cioè ecco, credo che sia la paura la prima cosa da togliere al cittadino oggi. Ma certamente, le cose che non conosciamo ci fanno paura e questo virus non lo conosciamo non capiamo quali possano essere le conseguenze su ciascuno di noi e giustamente c'è una reazione istintiva di difesa ma io credo che abbiamo anche le strutture sanitarie per comprendere la portata del pericolo e per reagire quindi questa settimana sicuramente è indispensabile per comprendere fino in fondo quali sia l'effettivo pericolo e io mi auguro che quanto prima riusciamo a fare un cordone intorno ai soggetti che sono potenzialmente a rischio quindi tutte le persone fragili dal punto di vista della salute che non devono assolutamente venire a contatto con il virus però lasciando che il resto della nostra società possa vivere una vita normale perché se no rischiamo veramente di avere delle conseguenze economiche elevatissime e su questo è importante il comportamento di ciascuno di noi e quindi alcune accortezze in termini di igiene, in termini di evitare situazioni di potenziale rischio sicuramente possono aiutare Ecco, l'amministrazione nel sindaco e presumo anche nel vice sindaco ovviamente cerca soprattutto di togliere quella paura che i padovani essendo di pado hanno perché è una delle cose che si percepisce e mi sembra che l'amministrazione oltre che a seguire con attenzione ovviamente questo virus soprattutto cerchi di sdramatizzare tra virgolette quello che sta accadendo No, di tenere alta l'allerta perché dobbiamo avere tutti grande responsabilità e grande attenzione ma senza ingigantire troppo per cui le situazioni che non sono a rischio effettivamente voglio dire camminare per la strada a Padova non credo rappresenti un rischio in nessun modo naturalmente dobbiamo avere l'accortezza di lavarci spesso le mani di non toccare le cose e di non frequentare luoghi particolarmente affollati ma una volta diciamo così tenuti questi comportamenti di cautela io credo che si riesca a circoscrivere molto il fenomeno Ecco speriamo sia una che si risolva rapidamente questa storia perché davvero non ci voleva poi lasciamo stare che dal punto di vista dell'economia perché anche quella lì ha subito e subirà un dramma non quantificabile presumo io anche se qualcuno sta facendo già dei conti però non è quantificabile nemmeno quello Ma no, è difficile quantificarlo perché quando un fornitore non ti si rivolge più perché vieni da un'area ritenuta a rischio e trova un altro fornitore poi riprendere quel cliente per un operatore economico è un'impresa e quanti sono i casi in cui per le limitazioni che dobbiamo sperimentare in questi giorni ci si trova a dover affrontare situazioni di questo tipo così come tutta la parte ma penso, sono tantissimi i settori la stagione teatrale per dire la stagione teatrale è saltata completamente ma saltano i campionati sportivi saltano le lezioni universitarie nel senso che adesso io dovevo fare provvisoriamente mi auguro sia i teatri sia sì provvisoriamente però voglio dire come si fa a riprogrammare il tutto ci sono persone che hanno lavorato mesi per una rappresentazione teatrale e questa non viene fatta mi sembra che ha parlato di teatro lei si ricorda che per gli artisti, per gli attori il colore viola è un colore lei sa per quale motivo è un colore no, non so l'origine l'origine era tanti anni fa quando era il periodo dell'acqualesima veniva obbligato da parte della chiesa di non praticare attività di teatro attività ludiche, attività di divertimento ed hanno una quarantina di giorni il periodo di quaresima e quindi gli attori in quel periodo lì non lavoravano ecco il motivo per cui per gli artisti per gli attori, per chi frequenta teatro il colore viola è un colore non simpatico diciamo il motivo perché in quel periodo non lavoravano adesso mi sembra di rivedere quel periodo lì speriamo duri poco quanto meno insomma associeremo il viola quindi al virus che ci toglie la possibilità di lavorare ma in questo momento ha ragione in questo momento il viola è proprio il virus che sta facendo non lavorare non solo gli artisti ma anche tantissime altre persone e speriamo che passi rapidamente per questo la sua cravatta di stasera non è viola è un po' bordeaux bordeaux nera bordeaux nera almeno visto così è il vino di voi che inizia ad essere dal torico vabbè avete visto il torico Lorenzoni W.S. Ziaia allora professore universitario poi diventa vice sindaco poi vuole lottare per diventare il primo cittadino della giornalità come è lei come è lei è venuto fuori Lorenzoni tutta questa voglia ho detto ma Lorenzoni sarà come è lei è venuta fuori una certa età tutta questa voglia di fare politica di fare l'amministratore beh no diciamo così l'avventura su Padova nasce dalla vicissitudine che ha vissuto la città con la caduta della giunta nel 2016 sì però in breve tempo lei non è capitata molti anni fa la voglia di fare politica è capitata fino ad allora non avevo sentito la necessità di chi gliel'ha detto mi racconti un po' chi gliel'ha detto Lorenzoni mettiti in politica è stata la moglie è stata la famiglia è stato un amico no le chiedo chi è stato qualcuno gli avrà suggerito Lorenzoni si metta in politica faccia qualcosa non so chi è stato no 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 con gli amici la cerchia così più vicina degli amici quando appunto a Padova si è creato questo vuoto si è detto forse dobbiamo dare una mano anche noi nel senso che molte delle persone impegnate in città si tengono lontane dalla politica perché la politica è fatica la politica è anche diciamo così trovarsi a gestire delle situazioni che possono pesare professionalmente per chi ha soddisfazione vuol dire fare delle rinunce importanti e quindi ci si è detti no forse però questo è il momento per dare una mano poi del gruppo di amici che si era quello che è stato spinto sono stato io ma questo in qualche modo si legava anche al fatto che io dal punto di vista professionale dal punto di vista familiare avevo la possibilità di impegnarmi non sempre è facile conciliare la propria vita familiare la propria vita professionale con un impegno da 15-18 ore al giorno bisogna stare bene anche economicamente per poterlo fare perché uno che non ha la possibilità deve per forza magari ha la voglia però fa fatica a farlo a tempo pieno ovviamente c'è anche questo aspetto indubbiamente che è un aspetto importante e qui devo dire che insomma io ho la fortuna insomma a livello familiare con mia moglie di poter di poter potermi consentire un impegno da questo punto di vista insomma senza privare nulla i miei figli e da lì è nata appunto il mio impegno a Padova poi nel corso del 2019 ci si è resi conto che molte realtà venete sono amministrate da esperienze civiche da persone che nella loro comunità sono credibili sono affidabili ma non hanno un legame al di fuori della realtà che amministrano e si è detto ma perché mi spieghi meglio questo passaggio che non l'ho capito bene cosa vorrebbe dire voglio dire ci sono dei sindaci in Veneto che guidano la propria città partendo da esperienze civiche sono moltissimi mi viene in mente tra i capoluoghi Padova Belluno Rovigo hanno Belluno era del PD che si è tolto dal PD però adesso il PD all'opposizione è Belluno per cui è una persona che evidentemente nella sua comunità ha una credibilità ha una sua mandando alle elezioni regionali un'esperienza come quella del sindaco Giordani piuttosto che del sindaco Gaffè o del sindaco Massaro o di molti altri che ci sono soprattutto in realtà più piccole non viene rappresentata perché non c'è una diretta rappresentanza a livello regionale allora si è detto perché non fare una rete di queste esperienze perché non vada perduta quella forte presenza sul territorio quella credibilità verso i cittadini e da lì è nato una serie di incontri una serie di così di occasioni e di scambio e da lì è nato poi un movimento che mi ha spinto a prendere una responsabilità diretta in questo movimento forse perché hanno visto in me in qualche maniera una persona che poteva aggregare esperienze che in realtà sono anche diverse perché ogni esperienza civica ha una sua storia e una sua connotazione insomma e io ho sentito la responsabilità di dare un denominatore comune a tutte queste esperienze e di portarlo diciamo così al tavolo di confronto con le forze politiche più strutturate in primo luogo il Partito Democratico certo lo facciamo così poi molte domande perché lei va contro un caterpillar dunque lei ma lei sa già tutto perché lei conosce poi le farò diverse domande in tal senso perché non è che affronti uno che si fa una battaglia e ha possibilità di vincere oggi lei parte da sconfitto no 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 sconfitto no no ma lei io faccio la parte giornalistica giusto lei faccia la parte che deve fare ma se pensassi di essere sconfitto prima di partire non partirai a farlo lei ha perfettamente ragione dal motivo io non gioco mai per non vincere nelle statistiche dico io è chiaro che dopo non si è sconfitti assolutamente ma le posso citare dei numeri e farle vedere facciamo così andiamo a vedere il servizio di legge metacorazza e poi mi farà vedere dei numeri che sono curioso anche io di ascoltarla vediamo fino allo scoppio dell'emergenza coronavirus l'argomento di discussione che andava per la maggiore a Padova e a Palazzo Moroni era la candidatura del vice sindaco Arturo Lorenzoni alle regionali quale espressione di una coalizione di centro-sinistra nella sfida all'attuale governatore Luca Zaia ma soprattutto si parlava delle sue dimissioni e del passaggio di testimone per deleghe importanti quali mobilità e urbanistica se da un lato il primo cittadino di Padova parlava di dimissioni imminenti addirittura che si sarebbero concretizzate nel giro di una decina di giorni al massimo il diretto interessato frenava dimissioni sì ma tempo debito tanto più che la data delle regionali non è ancora stata decisa e che potrebbe anche slittare rispetto alla prevista fine di maggio visto quello che sta succedendo prima delle dimissioni rimane da trovare il sostituto una figura competente che sia espressione dei raggruppamenti che hanno sostenuto il professore universitario nelle comunali coalizione civica e lista Lorenzoni ora orizzonti e che goda della massima fiducia dell'attuale vice sindaco ancora in piedi è la possibilità che colui che siderà sulla poltrona numero 2 di Palazzo Moroni e il sostituto nelle deleghe possano essere due persone distinte una volta che il sindaco avrà scelto in una lista che gli sarà sottoposta il nome del sostituto Lorenzoni si dedicherà al 100% alle regionali al momento il professore universitario legato al mondo cattolico e del volontariato ha incassato oltre all'appoggio del PD quello di calenda e di numerosi sindaci mentre coalizione civica ha lasciato liberi i singoli di aderire o meno al progetto Il Veneto che vogliamo Allora abbiamo visto la scheda come diceva lei prima sta unendo tutta una parte politica del nostro territorio e non la parte civica e ovviamente ci vuole anche la parte politica perché senza di quella difficilmente riuscirebbe io prima della pubblicità cioè prima del servizio scusi le ho detto va contro ha un catterpilla se così si usa dire da noi e quindi le faccio una domanda brutta va bene hanno messo Lorenzoni perché sa già che perde e non vogliono fare brutta figura agli altri oppure Lorenzoni dice no io vado per vincere non so se non sono stato maniche cattivo in questa domanda No 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 lei è la domanda giusta è legittima è comprensibile io credo che l'idea di candidare una persona come me stia proprio nel portare il confronto fuori dagli schemi tradizionali della politica su cui oggettivamente la presenza della Lega è forte ma abbiamo tutta una serie di temi che non sono affrontati dalla politica in maniera adeguata e che le persone sentono come mancanti dalla propria agenda tipo tipo la sanità cioè stiamo facendo un racconto idilliaco della sanità veneta che è straordinaria nella gestione degli acuti abbiamo gli ospedali credo cioè io se dovessi stare male vorrei essere curato in Veneto ma tutta la sanità che non è legata ai fenomeni acuti che è legata alle rogne quotidiane della salute di ciascuno di noi non è stata gestita ma ciascuno di noi fa esperienza quando chiama il CUP e deve prenotare un esame o deve prenotare una piccola cosa i tempi di attesa l'allontanamento dalle persone della medicina non si è fatta una programmazione adeguata per seguire l'invecchiamento della popolazione e dare dei servizi adeguati per cui siamo completamente sfasati rispetto ai bisogni e quindi lei cosa farebbe? ma dobbiamo tornare a quella funzione di programmazione che è data alla regione nello statuto costituzionale ma le ho citato la sanità ma se parliamo di ambiente se parliamo di innovazione se parliamo di trasporto pubblico sono tutti ambiti in cui la programmazione manca e ci troviamo a inseguire delle situazioni in maniera veramente assurda le dico una cosa perché in questi giorni mi ci scontro il biglietto unico regionale dei trasporti che è una cosa di cui si parla da anni prima che io fossi amministratore ancora non ce l'abbiamo e tutte le regioni d'Italia hanno semplificato la vita alle persone con un biglietto unico possibile che non riusciamo a investire qualche decina di migliaia di euro per fare un sistema di pagamento agevole che incoraggi l'uso del trasporto pubblico? allora questa funzione di programmazione è mancata completamente adesso ci lecchiamo le ferite in molti ambiti ma io credo che il Veneto meriti molto di più dal punto di vista della politica nel senso autentico che non è soddisfare le persone nei bisogni immediati ma è condividere una progettualità e portarla sul territorio su questo abbiamo tantissimo da fare e ritengo che il governo della Lega sia stato deficitario profondamente in questi anni che sono troppi ormai perché io voglio dire da che voto ho sempre visto una regione amministrativa lei è iniziato nella sanità mi piacerebbe anche approfondire il tema perché la sanità veneta è riconosciuta in Italia come una delle migliori sanità per gli acuti tant'è che l'ex assessore alla sanità coletto è stato chiamato a Roma per dirigere la sanità nazionale Zaya Mantohan stesso che è il dirigente primario viene chiamato a Roma per dare dell'input alla sanità nazionale cioè la sanità veneta è vista come una buona sanità mi sembra di recepire io la seguo storicamente ma negli ultimi anni ci siamo veramente impoveriti da questo punto di vista e ripeto non parlo della sanità degli acuti i nostri ospedali sono dei centri straordinari e voglio dire credo che siano invidiati da tutti però guardi quanti dei medici tra i 30 e i 50 anni lasciano la sanità pubblica del Veneto e beh quale sarebbe il motivo aumentare lo stipendio il motivo è che ci sono delle condizioni di lavoro che sono assolutamente negative per chi ha delle professionalità elevate perché si è creato un'ambiente che non è attrattivo per il professionista lei sa che per sistemare questa situazione ci vorranno soldi se ovviamente un governatore deve valutare il budget deve ridurre i costi cercando di salvaguardare la salute dei veneti deve far abbinare due cose è chiaro che va a mancare qualcosa non la seguo su questo non la seguo su questo noi abbiamo i soldi per gestire le cose non si tratta solo di soldi come le dicevo si tratta di capacità progettuale su cui il governo regionale è debole le singole strutture sono validissime ma la politica sul territorio per gestire la salute di ciascuno di noi è fortemente deficitaria ma ciascuno di noi sperimenta come sia difficile poi lo so che preferiscono curare un malato che venga da fuori regione perché quello fa fatturato per la sanità del veneto perché il malato dell'Emilia Romagna che viene a curarsi in veneto ha un pagamento fatto dalla regione Emilia Romagna verso la regione veneto e fa fatturato per cui preferiscono curare magari un malato che venga da fuori piuttosto che un malato del veneto ma questo solo per far quadrare il bilancio no non ci sto io voglio che il servizio per i cittadini del veneto sia massimo e non che mi mandino nel privato se ho delle cose che possono essere diciamo così difficili da curare perché questo avviene i casi veramente complessi il privato non li prende e vengono lasciati alla sanità pubblica parliamo con i nostri medici che si trovano a gestire una serie di complessità elevatissime perché abbiamo una struttura sanitaria che va a privilegiare il privato dove le cose non sono particolarmente complesse e lascia diciamo così la parte peggiore della torta la crosta alla sanità pubblica allora facciamo così vado in posizione a me questo non piace no mi racconti come poi Lorenzoni da se diventerà presidente della regione veneto cosa farà della sanità e come la strutturerà da presidente della regione veneto subito dopo la pubblicità grazie grazie grazie